La fine dello stato di emergenza porta a delle novità, anche se lievi, per la celebrazione della Messa, oltre alla ripresa delle processioni. La Presidenza CEI, Conferenza Episcopale Italiana, con una lettera, ha dato alcuni consigli e suggerimenti per le celebrazioni liturgiche, ma anche orientamenti per i riti della Settimana Santa. Come si legge nel sito della Chiesa Cattolica Italiana, infatti, dopo lo scambio di comunicazioni tra CEI e Governo, dal 1 aprile viene abrogato il protocollo del 7 maggio 2020. Si consiglia comunque di mantenere alcune pratiche attuate durante il periodo pandemico, e dunque, acqua sentiera ancora vuote, igienizzazione delle mani all'ingresso dei luoghi di culto, ma anche degli stessi ambienti, con il ricambio d'aria prima e dopo le celebrazioni, e durante, lasciare aperte o socchiuse porte e finestre, evitare strette di mano e abbracci per lo scambio di pace, ma rivolgere lo sguardo verso le persone vicine e accennare un inchino. Bisognerà mantenere le mascherine anche in chiesa, seguendo dunque l'obbligo di tenerle al chiuso fino al 30 aprile, mascherine indossate dopo aver igienizzato le mani anche dai ministri al momento della distribuzione dell'eocarestia, preferibilmente nella mano. La novità riguarda il distanziamento, non è più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro, ma allo stesso tempo bisogna evitare assembramenti all'ingresso e uscita della chiesa e tra chi segue le celebrazioni in piedi. Rimane anche l'indicazione di non partecipare alle celebrazioni perché ha sintomi influenzali o è sottoposto a isolamento perché è positivo al Covid-19. Per gli orientamenti della settimana santa si chiede invece di evitare consegno scambi di rame di ulivo o di palma durante la Domenica delle Palme e quindi i ministri fedeli dovranno avere in mano quello portato con sé. Per il giovedì santo, nel caso in cui venga eseguita la lavanda dei piedi, bisognerà indossare sempre la mascherina e sanificare le mani ogni volta. Evitare il bacio della croce il venerdì santo e inserire nella preghiera del vescovo un pensiero alle popolazioni colpite dalla guerra. Oltre alle processioni infine si potrà eseguire regolarmente anche la veglia pasquale.